A Games & Co il passato diventa presente! Scopri la grandiosa Retro Gaming Zone. Videogiochi che hanno segnato un'epoca, cabinati leggendari, console, joystick e joypad. Oltre 500 metri quadrati di pura nostalgia ti aspettano. Rivivi la magia. Ogni gioco racconta una storia. Il 18 e 19 novembre, alla Fiera di Pordenone. Acquista subito il biglietto online e risparmia.